Io ho lavorato per Gianluca Pascucci l'estate del 2019 per due mesi dopo che ero stata paziente da lui, perché lui oltre ad essere proprietario di cui sublime è anche uno psicoterapeuta di orientamento bioenergetico quindi dopo essere stata paziente da lui, verso la fine del percorso terapeutico, mentre faceva ancora terapia mi ha anche assunta come serbarista. L'esperienza è stata altamente traumatica per il semplice motivo che io ero una sua paziente e quindi già di per sé mischiare vita privata e rapporto terapeutico è altamente sconsigliato anche dal codice dentologico degli psicologi e quindi è stato traumatico perché poi lavorando ho scoperto molte storie su di lui e il fatto che lui non abbia considerato questo mi ha fatto dubitare della sua sanità mentale perché era ovvio che io venissi a scoprire certe cose e il fatto che lui non l'abbia messo in conto mi fa capire quanto lui neghi totalmente la realtà e vada avanti senza un minimo proprio di messa in discussione e di giudizio rispetto alle sue azioni e quindi nulla, lavoravo circa 10 ore al giorno senza nessuna direttiva su quello che dovevo fare e non dovevo fare senza aver avuto mai esperienza. Lui mi diceva che io dovevo tirar fuori tutte le mie doti relazionali, eleganti e dovevo accaparrare i clienti con i soldi e dovevo atteggiarmi con delle modalità un po' giocose per accaparrare i più clienti proprio perché io sono molto chiacchierona e quindi lui mi diceva che dovevo sfruttare le mie qualità e dovevo tirare fuori la mia energia sessuale che secondo lui grazie alla sua terapia io avevo ritrovato e queste erano tutte le skills che a tanto pare perché lui voleva che io tirassi fuori nel suo lavoro e quindi è stato talmente traumatico che lavorando nel bar io lentamente ho iniziato a fare abuso di sostanze e questo ovviamente non mi colpa nessuno se non me stessa e il trauma che ho subito da lui rischiato ad abuso di sostanze mi ha fatto avere delle crisi psicotiche che ho dovuto riaffrontare in un'altra terapia quindi mi assumo totalmente la responsabilità di quello che dico perché sono seguita da una professionista seria che mi segue ormai da quasi due anni in contatto di ricevute e quindi se dicessi falsità ci sarebbe anche tutta la storia terapeutica mia attuale che testimonierebbe le condizioni in cui io sono arrivata da lei e come si è evoluto tutto il mio percorso terapeutico in cui c'è stata una fase dove abbiamo dovuto riparare tutti i danni che lui mi ha causato e solo dopo poter tornare a lavorare sui miei problemi personali la mia esperienza purtroppo è solo una delle tantissime esperienze di tante ragazze ma anche tanti ragazzi perché con diverse modalità però questo tipo di trattamento manipulatorio l'hanno subito anche i ragazzi giovani soprattutto anche loro e quindi no io la mia particolarità era che ero anche una sua paziente quindi sicuramente c'era un surplus in particolare non irrilevante insomma ma la mia è una delle tante storie di tante ragazze che vengono veramente molestate con me non si è mai permesso di andare oltre del bacio sul collo e degli abbracci perché sapeva benissimo che per i miei gusti personali a me piacciono le buone maniere quindi lui ha capito benissimo questo di me e con me non si è mai permesso di darmi pacchi nel culo di fronte per esempio a clienti con me anzi faceva il signore si atteggiava da principe mi faceva il baciamano perché sapeva che quello era ciò che insomma era più funzionale per me però poi io stessa ho visto come trattava gli altri ragazzi pacchi sul culo e addirittura ad una ragazza che poi dopo si è girata e gli ho detto ma che cazzo fai lui ha detto mamma mia che esagerazione ormai quei ragazzi di oggi ve la prendete per tutto hai tutto questo bel vedere perché non metterlo in vista e io lì capite bene che essendo mio terapeuta essendo anche mio terapeuta il mio cervello è andato completamente in crisi perché mi sembrava veramente che non era reale e invece era reale come tanta gente che ha preso ciottini sulle tette mentre lavorava mentre lavoravi lui ti veniva lì mentre magari anche se il video ti iniziava ad abbracciare da dietro a toccarti tutta e a letcarti il collo e quindi ecco no la mia non è una storia particolare è una storia come le tutte come le tutte altre se non che io ero anche una sua paziente e questo è veramente un dettaglio da non considerare oggi è stato mi sembra ancora non ci credo perché mentre facevo terapia per me è stato devastante dovermi riprendere da sta cosa ci sono stati momenti in cui pensavo che non mi sarei mai ripresa ci sono stati momenti in cui proprio perché ho avuto queste crisi psicotiche pensavo ormai proprio boh che io sentivo dei messaggi da parte della luna non riuscivo più a capire chi ero cioè veramente cose che se non le vivi non puoi capire e anzi magari sembro anche una cogliona a dirlo però vi assicuro che se andate a leggere crisi psicotiche potete capire di che parlo e non pensavo che sarei mai riuscito a fare tutto questo e il fatto che oggi l'ho fatto anche se non mi sono tolta la maschera e questa è una cosa di cui un po' mi incolpo però quello non ce l'ho fatta ma mi sono sentita veramente che forse in realtà per fortuna sono riuscita ad utilizzare questa esperienza traumatica per rinascere, per ricostruire me stessa e per trarne molti insegnamenti e quindi mi auguro che tutte le ragazze capiscano e questa è una cosa che ci tengo tantissimo a dire che se hanno problemi con la figura del padre, se hanno problemi familiari se si sentono in una condizione di fragilità perché abbiamo 20 anni e a 20 anni la vita sembra che ti sfugge di mano quello che va fatto è trovare l'autonomia dentro di noi sembrano delle parole fatte, sembrano dei discorsi del cazzo fatti ma tutto ciò che uno dà per scontato non è per niente scontato e quindi veramente l'autonomia è una costruzione interiore non devi mai far affidamento su nessuno perché la forza la devi trovare dentro di te e tutti coloro che iniziano ad adunarti, a mostrarci per quanto sono grandi quanto tu dovresti fare come loro, quanto tu dovresti essere come loro state fottutamente lontane perché sono i famosi narcisisti che si vogliono prendere gioco di te perché ti vedono fragile e quindi no, tu devi essere forte e andare avanti con le tue gambine grazie 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 a tutti